Via turistica direzione Valle Bona Giriamo a destra per via turistica Segnale stradale che ha sicuramente bisogno di essere messo a posto Via turistica Ecco questo qui sarebbe da sostituire A sinistra c'è via Meroglio Continuiamo per via turistica L'anno scorso sono stati posati I tubi del metano Strada sconnessa Asfalto che avrebbe bisogno di essere messo a posto Quindi la strada è rimanata La strada sconnessa E' un'ottimità La strada sconnessa E' un'ottimità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.